benvenuti in questo nuovo video ovvero parliamone oggi sono qua a parlare di questa argomentazione che mi ha fatto venire in mente se non mi sbaglio alex battisti se mi dovrei sbagliare su chi mi ha dato l'idea me lo scrive qua sotto nei commenti perché ho ricevuto tanti commenti questi giorni sono contentissimo di questo e quindi certamente mi posso confondere e niente iniziamo a parlare proprio dell'argomento di oggi parliamo dei giovani di oggi ho fatto un video parlavo del loro essere diversi non tutti attenzione ripeto non tutti ma il più del 90% sono così e si pensavano da questo commento che ho letto può essere colpa dei genitori potrebbe essere colpa dei genitori questa cosa qui io vi racconto un po' come sono cresciuto io mi hanno sempre cresciuto nel senso di avere sempre rispetto per quelli che sono più grandi di avere il rispetto delle persone intorno a te e di non essere mai maleducato cioè di essere sempre una persona tranquilla io sono molto tranquillo però quando mi fanno girare il cazzo io inizio a sbroccare malamente ma la questione come vi ho detto no l'educazione io mi sono autoeducato su tante cose non è che ci deve essere sempre qualcuno cazzo che ti deve dire ehi questa cosa non si fa cioè il tuo cervello dovrebbe funzionare a riflettere no perché questi ragazzi oggi non riflettono cioè boh ragionano non lo so coi piedi non so come cazzo pensano e lo vedo anche attraverso alcuni mie nipoti che vedo che per niente il loro cervello è andato in pappa cioè non riescono a ragionare si nervosiscono si sentono sempre che loro sono sempre pieni di problemi con tutto ciò non hanno un cazzo di problema c'hanno una vita davanti cazzo manco avessero 70 anni sono attaccati prendendo un respiratore li vedi lì disperati cioè sembra che non hanno scampo e hanno una vita davanti ragazzi stiamo parlando di c'è ragazzi 18 20 anni che si sentono così puttana miseria cioè io non voglio fa quel vittimismo cioè ma io però non ho venuto a mancare mio padre a 17 anni a me mi è caduto veramente il mondo addosso no come questi qua c'hanno tutti i vizi c'hanno le macchine c'hanno i motorini c'hanno le moto c'hanno i motocross c'hanno i quad c'hanno sto cazzo c'hanno pure l'iphone rompono pure i coglioni li vedi sempre lì depressi sempre pensierosi non si sa che problemi abbiano questi qua si sentono qua in breve che tutti ce l'hanno con loro e spesso voglio dire c'è gente che ce l'ha con loro proprio per il loro modo di fregarsene quasi della vita nel senso che hanno tutto dici io ho tutto ma arrivano a un punto che non riescono più anche a desiderare altro perché avendo tutto tu hai finito pianistante non te ne frega un cazzo io ho desiderato sempre tante cose continuo a desiderare ancora oggi no crescendo non non sull'oggettistica no che ne so io che sono un padre no di non fargli mancare mai niente a mio figlio spero sempre di di portare di migliorare me stesso c'è invece loro no vedono tutto sul materialismo c'è non si pensano allora a ammigiorarsi loro perché anche per colpa dei genitori che sono stati li hanno abituati no con tutte queste oggettistiche tutte queste anche io ero un po viziato da piccolo non mi nascondo non ero viziato però porca puttana ma almeno mi avevo un qualcosa un po di personalità ce l'avevo io a scuola ragazzi non ero neanche amici proprio perché ero quello diverso nel senso che era quello che giocavi videogiochi ora va di moda giocare videogiochi ti prendono che sei sei un grande ma quando ci giocavo io eri un coglione cioè capite cosa voglio dire cambiato tante cose vedevo i film horror e praticamente non venivo cacato per questo non mi interessavo di calcio e quindi venivo snobbato si parlava di altri argomenti che a me non mi interessavano e quindi venivo snobbato però non ho mai abbandonato il mio percorso cioè non sono mai cambiato non è perché qualcuno non era d'accordo sul mio modo di pensare o sulle mie passioni sono cambiato per gli altri invece questa generazione di oggi sembra che non lo so se sono i genitori non lo so però a me neanche i miei i genitori mi stavano sempre attaccati ai coglioni eh vi devo dire la verità ma non ho lasciato la libertà di scegliere il mio percorso su cosa andare su cosa vedere su cosa fare su che esperienze farmi cioè io sono stato quello che veramente così debotto senza senso sono partito a 19 anni cioè non è che mi sono messo lì a chiedere a fare e dire da solo senza un cazzo di soldi così tanto per provare a come andava andava non avevo neanche 60 euro in tasca questi se non partono cazzo 5.000 euro non vanno a nessuna parte che si sentono già veramente persi cioè io mi ricordo di io non faccio nomi no? un mio parente cazzo dice ah io con 500 euro non riesco a stare manco 3 giorni minchia che cazzo quando spendi al giorno cazzo è ebriatore minchia 500 euro due giorni ti durano cioè non riesco a campare manco due giorni con 500 euro un mio nipote diciamo che non avete mai visto non vedrete mai perché per niente non è qua nel senso che vive in un'altra città ed è super viziato super super viziato cioè per lui 500 euro due giorni non gli abbassano ci sono famiglie che vanno finalmente non riescono ad arrivare a fine mese con 800 euro a mese famiglia completa sto poverino 500 euro due giorni non gli abbassano eh questo perché sono attaccati al denaro non riescono a godersi le piccole cose non andano per cazzo nei posti chic nei posti perché anche è colpa dei genitori che gli danno tutta questa possibilità tutto questo denaro e loro non capiscono che quei 500 euro potrebbero essere 500 euro di un povero cameriere o cameriera che si rompe il culo per tutto il mese per quei 500 euro invece lui li spende in due giorni non capiscono più il valore del denaro non hanno rispetto delle persone come a me ieri sono andato a vedermi profondo rosso puttana miseria ci sono questi due eravamo tutti persone adulte nessuno parlava adulte nel senso io ero più giovane avevo 30 anni poi c'eravamo 50 anni 70 anni e via discorrendo molto molti anziani se non andate a vedere porca puttana dopo 50 anni io ritorno a cena di profondo rosso di dare argento io che mi vado a ritrovare in fila vengono già in ritardo perché qua ti fa capire il non rispetto sempre cioè io non sono mai è difficile che arrivavo in ritardo al cinema o un appuntamento da qua ti fa capire proprio la loro educazione la loro non rispetto e anche il fatto che non sono precisi tu non puoi cazzo stare pre niente con loro per essere precisi perché loro non saranno mai precisi questi ragazzi oggi ma perché sono sempre impegnati capito sono dei broker di wall street sono sempre impegnati sempre non si sa che cazzo fanno ma sono impegnati è una cosa strana c'è il ragazzo di 18 anni 20 anni sono impegnati non si sa che cazzo fanno poi quando tu dici ma che cosa fanno eh sono impegnati non si sa e li vedi girare girare come dei coglioni a farsi vedere in giro no con la macchina nuova e col motorino e cazzo nuovo e farsi vedere agli altri cioè il tuo impegno è soltanto mostrare che sei un coglione che c'è la macchina comprata da papino e te ne vai in giro a fare lo stronzo ah questo è il tuo impegno ho capito cioè pensavo che c'era qualcosa di più in fondo invece è questo spregare benzina perché alla fine non viene pagata da loro perché viene data diciamo alla fine da mammina da papino cioè capito cioè non è come no io vado al cinema mi devo fare 2000 riflessioni no che cazzo devo prepararmi questo devo pagare cioè mi devo andare a pagare tutto io non c'ho qualcuno quindi loro non apprezzano un cazzo non apprezzano non sanno che vuol dire che cazzo stare a a farsi i conti in tasca perché sono queste generazioni di oggi sono viziate è brutto a dire ma sono super viziate più viziate di me a meno cazzo a me mi compravano il gioco mi compravano non ne so il film ai tempi vabbò all'inizio quando c'erano ancora le VHS mi compravano le VHS costavano 32 costavano pure assai mi ricordo mi ricordo che la se ancora c'era mi pare l'euro e la lira non mi ricordo più mi ricordo che mi erano regalato la VHS di un Raider con Lara Croft quindi forse sarà colpa dei genitori nel senso che gli fanno passare tutti i piaceri e non gli fanno capire che cosa ci sta dietro quei pezzi di carta che sono di valore e anche il rispetto di avere attraverso altre persone se ne fottono come sto parlando del cinema queste si sono messe a parlare si sono messe a rompere i coglioni si sono messe a scassare la minchia e io mi sono dovuto incazzare per loro per questi due teste di minchia giovani per loro erano un pazzo per gli altri quasi quasi mi stavano per abbattermi le mani nel senso che diceva bravo cazzo finalmente uno l'ha alzato e gliel'ha detto che sono degli stronzi maleducati e che non hanno rispetto di chi è al cinema insieme a loro capite? io per questo io poi più mi cale ancora di più la fiducia su questa gioventù su queste generazioni perché vedo queste cose me la fanno calare di più io l'unica speranza che riesco a vedere quel barlume che riesco a vedere di speranza lo so io li cito sempre di quel barlume io lo vedo attraverso quei pochi ragazzi veramente che hanno un rispetto delle persone un rispetto del cinema un rispetto della settima arte io saluto di nuovo Antonio Tofani di Horror Room che io vi invito a iscrivere al suo canale cioè ragazzo splendido ma perché cazzo non siete come lui? perché siete delle merde? ma perché? perché siete delle merde schifose? ma secondo me questo video manco lo vedranno quella generazione in merda non ne vedranno mai questo mio video e rimarrà tra di noi io non voglio essere quello là che quasi quasi minchia sembro quel cazzo di boomer che si metta a odiare le generazioni di minchia sembro io pure a me mi odiavano quando non è niente le generazioni che c'era davanti a me mi odiava a me però porca puttana ma io il rispetto ce l'avevo sempre porco giuda questi qua invece non gliene frega un cazzo sono dei materialisti di merda i genitori neanche ci stanno dietro dicono oh comportati bene stai andando al cinema oh non fa testa di minchia stai zitto quando c'è il cinema c'è che poi non c'è neanche bisogno ma veramente sono così cazzo rincoglioniti ma non dire altro da non capire che porca puttana quando tu vai al cinema tu devi fare silenzio perché se ci sono le altre persone non ti devi mettere a parlare come fossi a casa tua cioè io non capisco boh non lo so ragazzi non lo so anche no il fatto dei vestiti colpa dei genitori no c'ha minchia a due anni li vedi che le scarpe adidas ma che cazzo gli emetti che fra uno o due mesi cresce il piede e non manco più ci vanno quelle scarpe io che c'è avuto mio figlio ci ho comprato le scarpe di marca ma non a Nike adidas io ho preso cazzo che era chicco e che hanno un'offerta 25 euro ho detto a boh ma noi io ho comprato 70 euro e scappate manco io me ne compro quasi quasi e c'è compro un bambino che gli cresce il piede neanche uno o due mesi perché per mostrarlo a tutti ci vedi mio figlio veste adidas quel bambino non sa manco che cazzo è adidas o Nike non sanno una minchia che cazzo li metti eleganti gli fa dei capelli di merda glieli tagliate da maranza perché egli deve fare i capelli da maranza a sti poveri bambini ma lasciatele essere bambini ma io mi riferisco anche ai genitori di oggi che sbagliano anche e per questo diventano quello che diventano perché già da piccoli fanno diventare dei baby boss ma che cazzo io mio figlio lo lascio lì con i ricciolini perché è un bambino cioè cazzo ma l'unico mio figlio cazzo è l'unico che prende e sta crescendo alla vecchia maniera boh con i giocattoli e tutto invece no tutti gli altri li piazzano davanti a sti cazzi di telefoni e ci rimangono legati a quel cazzo di telefoni fino a loro fino a quando diventano grandi sempre per colpa di loro perché si scocciano a starci dietro è un fastidio capito cioè tu fai un figlio ti sta pure sui coglioni e gli dai un telefono io posso capire anche io certe volte io sono sincero ma anche io certe volte vedo il telefono al mio figlio ma poco ma neanche un'ora al giorno ma poi il resto lui deve usare la sua fantasia si crea le sue storie che ne sembra se io metto un film lui ce lo guarda cerca di copiare quello che vede nel film cioè lo faccio come posso dire usare la sua fantasia giocare io mi ricordo quando ho visto Fast and Furious 10 vi ricordate la scena della palla che distorce un po' tutto a Roma lui ha preso una palla con tutte le sue macchinine gli ho comprato anche un elicottero perché lui voleva l'elicottero perché ci stava nel film l'elicottero e lui giocava su questa cosa vedeva le scene nel film e le replicava con le macchinine e con la palla ed era una cosa fantastica perché usava l'ingegno il cervello non era davanti a un cazzo di telefono capito cosa voglio dire cioè è giusto anch'io sono attaccato al telefono mentre vi sto parlando ma se si usa nel modo giusto allora ha un senso ma se tu lo usi nel modo malsano allora non ci siamo io ho visto una scena che vi giuro da brividi cioè veramente da black mirror da black mirror io mi vedo sta coppia io esco dal parcheggio me ne stavo andando all'unieuro mi piace dare un'occhiata così così da passatempo e vedo nel parcheggio questa coppietta che si scanna che si scanna proprio se si mette una parolaccia tu così tua sorella me la lecca tu così questa è tua mamma la vedi tu 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 che cazzo succede tutte queste cose e vedo vicino a loro questi due che si mettono a discutere l'amico loro che si mette a ascoltare Spotify e si mette a ballare vicino a loro ma hai detto ma che cazzo è sta roba ma stiamo scherzando ma che minchia è ma cioè ma hai detto ma io veramente non ho parole e quello ballava faceva pestava i piedi a terra e gli amici suoi che si scannavano è lui che ballava con Spotify o Amazon Music io uso Amazon Music Unlimited non lo so che cazzo faceva ma sto coglione ballava io è come un esempio che io immagino in America c'è parte una litigata in casa e il figlio si mette a ballare vicino a loro senza cuffie perché dici no no proprio si era portato pure molto carino si era portato pure la cassa bluetooth poi ho detto ma quei due non gli dicono un cazzo questo che si mette a ballare mentre queste si mettono a a discutere ma anche dici minchia ora li divido no no ma questo è il genenzio di oggi ognuno si sta per cazzi sua si stanno con questi cazzi di telefono ognuno si fa i cazzi suoi se loro vedono morire qualcuno ci fanno un balletto per tiktok i fanno e lo mettono lì mentre quello sta chiedendo aiuto lì per terra ma io ho paura di queste generazioni io ho paura io vi giuro quando io mi ritrovo solente che ci sono soltanto generazioni io ho paura di loro non so cosa aspettare le stronzate che fanno perché se mi si è capitato qualcosa io chiedo aiuto e questi qua si mettono a fare un balletto ma che cazzo fai buh non capisco ma veramente io posso raccontare qua all'infinito le cose all'infinito che poi diventano qua video alla Victor Laszlo perché diventano un video di un mango di 50 minuti 50 ore raccontare le stronzate che ho visto in giro di questi qua che non le vuoi vedere queste puttanate ma perché ma anche ma c'è bisogno che i tuoi genitori ti spiegano ehi se vedi i tuoi amici che si litigano alla tua fidanzata e al tuo amico cercale di dividerli non ti mettere a ballare con Spotify e la cassa bluetooth cioè ma sono così rincoglioniti che hanno bisogno cazzo di essere sempre richiamati ripresi il loro cervello non funziona capito non riescono ad arrivare col pensiero dice forse è sbagliato farmi ballettino stesse cose di tutto il rispetto per gli altri rompere i coglioni in giro disturbare correre su strada non ne vedo teste di minchia che corrono buttano urla per farti spaventare se tu sei lì alla fontana te fanno l'urlo per fare i simpaticoni poi quando scendono a piedi dalla macchina su dei coglioni c'è questo il problema sono stufo sono arci stufo di questa situazione non mi piace io ora fammi sapere la vostra cosa ne pensate ma veramente io mio figlio sì sarà nato nel 2021 dopo queste teste di cazzo ma porca puttana non diventerà così assolutamente assolutamente non lo farò diventare così a faste stronzate a non avere il rispetto di chi è più grande lo educherò come Dio comanda è questa la missione del genitore anche questo educarlo il proprio figlio invece no sono maleducati con i propri genitori si scocciano cioè puttana miseria ci hanno dato la vita e si scocciano pure cioè io io veramente non ho parole i sacrifici che fanno certi genitori per i propri figli poi che chiedi un favore io lo vedo l'ho visto con i miei occhi chiedi un favore loro ti dicono di no sono impegnati capito questa è la generazione di oggi sono troppo impegnati che non fare un cazzo questo è impegnati a non fare un cazzo sono queste le generazioni di oggi mi fanno schifo cioè io mi sono sempre sacrificato mia mia mamma per dire no facciano esempio mia mamma mi mancava il tv io ho dato il mio tv io mi sto guardando le cose in un proiettore da 55 euro anche se il valore era di 100 ho preso in super offerta su amazon ma perché ho rispetto per mia madre è una donna che mi ha dato tanto mi ha aiutato sempre mi ha cresciuto mi ha portato a scuola mi ha fatto di tutto ma mi abbiate rispetto puttana misera a meno dei vostri genitori ok non pedi i coglioni agli altri ma a meno abbiate rispetto dei vostri genitori è come non esistono appena loro crescono hanno loro la loro indipendenza non gliene frega un cazzo né del padre né della madre si discordano e poi dice no ma io non vi devo nulla no tu mi devi tutto pezzo di merda che per niente dopo che quelle persone no padre e madre hanno fatto dei sacrifici per te non sono che ne sono non sono usciti per anni perché tu eri piccolo sono stati apprezzo a te ti hanno portato a scuola ti hanno dato a mangiare ti hanno per niente pagato i studi ti hanno fatto tutto ti hanno comprato la macchina che è proprio la macchina che ti ha portato a allontanarti da loro e questo è il rispetto ragazzi io vedo cose dell'altro mondo il problema è che non posso fare nomi ma amiche chiami però se vengono chiamati da amici vengono chiamati da amici fidanzate loro a costo anche di andarsene a piedi ma loro si presentano però se è il loro padre e madre che hanno bisogno poi sono piena del culo così è così funziona questa generazione oggi ha un grandissimo rispetto anche per i propri genitori mi ero scordato questo è che a parte non aver rispetto proprio per questo non hanno rispetto delle persone strane perché se già non gliene frega un cazzo di quelli che gli hanno dato la vita e gli hanno dato per niente tutto figurati se gli dovrebbero avere rispetto per delle persone strane e qua vi ho detto tutto io vi ringrazio vi saluto fatemi sapere qua sotto nei commenti scrivetemi le vostre esperienze fatemi sapere cosa ne pensate e noi ci vediamo sempre a un prossimo video ciao